Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita, nuovo oldboxing di questo canale dedicato alla ciabatta di rete per uso Hi-Fi Gigawatt PF1E con cavo di alimentazione LC1EVO. Ricordo a chi sta guardando questo video che la rubrica oldboxing ha l'obiettivo di effettuare l'unboxing di prodotti usati o fuori produzione che sto usando o che ho usato nel mio impianto audio-video, a beneficio di chi li stia cercando nel mondo dell'usato. Questo anche per segnalare che l'unboxing può differire leggermente da quello originale. Con colpevole ritardo rispetto ad un impegno che avevo preso in uno dei primi video di questo canale pubblico questo veloce oldboxing di due prodotti della polacca Gigawatt. Per chi non lo ricordasse ho già parlato della Gigawatt in occasione dell'installazione di due particolari prodotti nella mia rete elettrica dedicata alle apparecchiature audio-video installate nella mia sala d'ascolto e visione. Lascio il link in alto a destra e in descrizione a quell'unboxing. L'impegno invece l'avevo preso tirando le somme su tutta l'avventura vissuta per l'installazione proprio della linea elettrica dedicata, che avevo indicato come prima direttrice di intervento in un processo importante di evoluzione del mio impianto audio-video. Lascio anche in questo caso i riferimenti per chi avesse la curiosità di approfondire. La PF1E, più comunemente detta ciabatta di rete, è la power strip più economica nel catalogo della Gigawatt. Tutto al mondo è relativo. Economico per la Gigawatt significa un prodotto che si acquista a più di 300 euro al listino, cavo di alimentazione escluso. Poco o nulla rispetto al catalogo Gigawatt, ma già molto per noi audiofili. La PF1E è una versione semplificata ed economica della ciabatta più nota della Gigawatt, la PF1EVO. Approfondendo sul sito della Gigawatt viene meglio spiegato il concetto di economico per la casa polacca. Economico non significa utilizzo di componenti di scarsa qualità o di un minor livello di protezione. L'architettura del filtro antidisturbo principale e la protezione da sovrattenzione della PF1E sono le medesime della PF1EVO. Trattandosi comunque di un prodotto Gigawatt, la costruzione è sempre ineccepibile. Tutto il telaio della ciabatta è realizzato in metallo a protezione dalle interferenze RFI e EMA. Il cablaggio interno è realizzato con conduttoni rame di diametro 2,5 mm quadri, come si vede chiaramente nel video di prova ed esplorazione di Silvio Germano Ricci della ACME Biella. Anche qui lascio il link per chi volesse approfondire. Per chi non avesse tempo ma volesse comunque gli elementi chiave, la ciabatta ha una base costituita da una piastra in acciaio di 3 mm collegata al cavo di terra. La cablatura interna è tutta in rame ad alta purezza, terminata come sui modelli più costosi per assicurare un ottimo passaggio di corrente. È presente un filtro RLC per il blocco delle interferenze, nonché la protezione da sovracorrente e sovratensione. Le 6 prese sono tutte trattate criogenicamente. Neanche a dirlo, vista la natura di questo canale, io ho acquistato la ciabatta usata ad un prezzo leggermente più basso di quello di listino, perché è dotata del cavo di alimentazione LC1 EVO, un cavo che da solo aveva un prezzo molto vicino a quello della ciabatta. Anche per il cavo c'è un contributo dedicato dei ricci. Per i più pigri indico qui che si tratta di un cavo in rame composto da 5 singoli fili da 1,5 mm quadri e rappresenta la base dei cavi gigawatt, quello in dotazione alle ciabatte e ai condizionatori di rete ben più costosi. La gigawatt, anche da prove fatte dallo stesso Ricci, suggerisce l'utilizzo di cavi della casa per godere delle migliori prestazioni possibili dei loro prodotti. Tanto dovevo rispetto all'impegno preso? Cosa ho collegato a questa ciabatta sarà oggetto di un video dedicato. Se questo contributo comunque vi è piaciuto, sempre a carattere amatoriale, potete regalarmi un like, iscrivervi anche al canale ed attivare la campanellina per la notifica di pubblicazione dei nuovi video. Per questo video è tutto, ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.